Fondiamo la pasta cacio e pepe col tiramisù su una pizza. Iniziamo con il root. 15 grammi di burro. 15 grammi di farina. Latte caldo. Pecorino a sentimento. Olive in pellicola alimentare. Vi faccio vedere come è disidratabile. Sembra caffè ma è polvere di olive. Pizza tiramisù. Questa volta senza bordo. Formiamo due tondi. Uno. Due. Abbinamento caffè cacio e pepe. Andiamo in forno. Seconda spruzzatura. Leggero profumo di espresso. Ora aggiungiamoci il cacio. Ovviamente. Secondo strato. Polvere di olive. Finto cacao. Finta scaglia di cioccolato. Andiamo al taglio. Ma guarda che è in tre. Ma che te lo dico a fare.